Bene, vi ringrazio per la presenza a questa conferenza stampa che la Lega Nord Umbria ha indetto per rendere noti dei fatti che sono emersi nelle scorse settimane, negli scorsi mesi a seguito delle indagini che abbiamo sollecitato in merito al ciclo dei rifiuti. In Umbria la situazione che riguarda il ciclo dei rifiuti purtroppo viene ed è stata troppo spesso sottovalutata sia in termini di impatto sulla salute dei cittadini sia in termini di responsabilità da parte di chi gestisce. Sono evidenti le asincronie rispetto a un territorio che viene definito il cuore verde d'Italia. Trovarsi con una miriade di discariche, più di 100 discariche come poi potremmo anche approfondire, sparse, costruite negli anni settanta di cui non c'è stata mai una gestione. Trovarsi con una grande discarica come le crete di Orvieto che ancora oggi rappresenta un'emergenza ambientale. Trovarsi con una situazione grave come quella delle ceneri, le ceneri di Pietrafitta. La Valle dei Fuochi è stata definita con un nome che fa il brivido solamente ad essere pronunciato. Ci dice che una gestione dei rifiuti in Umbria seria non è mai stata fatta. O peggio, se c'è stata gestione, è stata gestione di malavita. Gestione che ha portato infiltrazioni malavitose che hanno creato ulteriore situazione grave e di pericolo per la tutela della salute dei cittadini. Abbiamo presentato dei dati il 4 del mese di febbraio. Era il 4 del mese di febbraio a Perugia quando presentavamo i nostri report riguardo alle indagini fatte da noi sul ciclo dei rifiuti andando a fare un lavoro meticoloso che ha permesso di mettere in evidenza le contraddizioni rispetto a quello che viene dichiarato dalla Regione. Gestioni che non sono gestioni, raccolte differenziate che non sono raccolte differenziate, ma ancora di più percorsi che si intrecciano con la malavita se si tratta in questo caso delle società di gestione del ciclo rifiuti. O se andiamo a guardare, questioni legate ai depuratori che o non funzionano oppure sono totalmente non realizzati con gravi connivenze da parte della politica. Di questa faccenda abbiamo chiesto un interessamento tramite il nostro senatore Arrigoni della Commissione di indagine sul ciclo dei rifiuti e sono state fatte audizioni. Di queste audizioni ne abbiamo tratto ovviamente un utile report riguardo alle situazioni e vi dico che semplicemente a leggere nel momento in cui il Procuratore della Repubblica di Perugia viene richiesto della propria opinione, e cito testualmente, che l'Umbria è stata ritenuta l'Umbria Felix, dove tutto tranquillo, non c'è criminalità organizzata né reati di alcun genere. La mia impressione, dichiarava il Procuratore, è che non si sia indagato abbastanza su certe situazioni. Spero, quantomeno nella mia permanenza in questo ufficio, di dare un po' di impulso e una maggiore attenzione a questo fenomeno. E proseguiva ancora. Sicuramente c'è una scarsità di risorse. Certamente il Corpo Forestale ha un'altra professionalità, ma sono veramente quattro gatti. Mancano non i reati, ma le notizie di reato. Nel momento in cui il Procuratore della Repubblica dichiara che c'è una situazione un po' bloccata di emersione dei fenomeni, mancano le notizie di reato. In questo senso manca chi cerca, manca chi sa cercarle. Mi stai dicendo che esistono i reati. Si sa che esistono, ma non esistono le denunce. C'è un sistema che impedisce alla gente di ribellarsi, anche quando si vedono i camion che vanno a depositare i rifiuti laddove non dovrebbero esserci. Noi su queste cose non vogliamo sconti per nessuno. Vogliamo chiarezza e vogliamo che ci sia una presa di coscienza sia dell'opinione pubblica sia da parte di chi ha responsabilità di governo. Il senatore Arrigoni poi darà spiegazioni in merito alle indagini fatte della Commissione e al disegno di legge che abbiamo depositato questa mattina per l'Umbria. Gli passo la parola. Sì, grazie a tutti i rappresentanti della stampa. Allora, già il collega Candiani ha citato alcune affermazioni fatti dai soggetti uditi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta che di per sé stanno a significare molto. In sostanza i sospetti che la Lega Nord Umbria aveva su una gestione opaca, critica della gestione dei rifiuti nella regione Umbria si sono rivelati i fondati e quindi bene ho fatto, visto che sono l'unico componente della Lega Nord per entrambi i rabbi di Parlamento ad essere componente nella Commissione parlamentare d'inchiesta, chiedere un'eccezione al Presidente Bratti e all'Ufficio di Presidenza che già avevano programmato da tempo indagini settoriali in ordine all'attività della Commissione stessa, sto pensando al traffico trasfrontaliero dei rifiuti piuttosto che alla gestione dei rifiuti radioattivi o relazioni territoriali che però erano già state improntate, individuate sulla regione Veneto, sulla regione Sicilia, sulla regione Puglia, Calabria, perché in passato altre regioni erano state toccate, però visto i segnali preoccupanti che arrivavano al territorio, ben ho fatto insistere e ringrazio i colleghi e soprattutto il Presidente Bratti ad avere aperto questo focus sulla regione Umbria e quindi nelle altre regioni tra il 24 e il 26 febbraio la Commissione si è ricata sul territorio, prima nella provincia di Terni, abbiamo fatto anche un sopralluogo nel sin di Terni-Pappigno, poi ci siamo recati a Perugia e lì abbiamo audito diversi soggetti. Un'altra affermazione che ha fatto il Procuratore Capo della Repubblica di Perugia, che non ha citato il collega Candiani ma che cito io, nella sua considerazione conclusiva ha affermato che viene fuori che il territorio è stato in gran parte disastrato dalla gestione un po' dissennata di questi rifiuti. Adesso riepilogando il contenuto di 14 soggetti auditi in pochi minuti sostanzialmente che cosa è emerso? Che nella gestione Umbria ci sono state palesi situazioni di conflitto di interesse per esempio le schede Orso che di norma un comune deve compilare in ordine alla gestione dei rifiuti per mettere nero su bianco per esempio il dato della raccolta differenziata anziché essere compilati dei comuni venivano compilate, i dati dicono, quasi per la tre quarti dei comuni dagli stessi gestori, ovviamente in un palese conflitto di interesse, falsificando o potenzialmente falsificando o taroccando i dati della raccolta differenziata e devo dire che le notizie che abbiamo appreso recentemente ovvero che Legambiente che fa ogni anno la classifica dei comuni ricicloni in ordine a quei comuni che superano il 65% della raccolta differenziata, Legambiente ha deciso di escludere i comuni dell'Umbria da questa graduatoria appunto perché i dati sono considerati inattendibili sono emerse durante le audizioni la conferma di sovrafatturazioni da parte dei gestori che erogano i servizi ai vari comuni soci o affidatari del servizio e si è scoperto che più di un comune ha pagato molti più soldi per un servizio che in realtà avrebbe comportato un esborso minore. c'è stato il problema delle interdittive antimafia che hanno toccato tre società abbiamo appreso in un modo sorprendente che la Geseno che è la società a parziale controllo pubblico per il 45% del comune di Perugia che è il primo piano industriale di questa società che insomma ha diversi anni di vita è stato realizzato, approvato nel novembre 2014 un piano regionale dei rifiuti scaduto che anziché essere rifatto da capo a zero con il coinvolgimento del Consiglio regionale invece è stato sottoposto a modifiche sostanziali semplicemente con delle delibere di giunta regionale sottraendo alla procedura di via e quindi delle osservazioni dei componenti non solo del Consiglio regionale ma anche degli stakeholders delle associazioni ambientaliste financo anche ai semplici cittadini osservazioni in tal senso insomma un sacco di criticità che voi tutti potete apprendere se avete la pazienza di leggere i verbali che sono stati resi pubblici poche settimane fa ecco una cosa per arrivare a delle considerazioni finali una considerazione che ha anche una valenza politica il procuratore capo e non è stato il solo ha sottolineato la valenza dell'operato dell'azione nel corso degli anni delle donne e degli uomini del corpo forestale dello Stato dichiarandoli come persone appartenenti alle forze dell'ordine con estrema competenza e professionalità voi sapete che il governo ha invece deciso di smantellare questo corpo forestale dello Stato accorpandolo in altra forza di polizia nel disegno di legge delega più comunemente chiamato riforma Madia si diceva in altra forza di polizia poi il governo ha deciso di fare questo accorpamento nell'arma dei carabinieri che sottolineo è ordinamento militare quindi secondo me l'assurdità di pretendere l'accorpamento di un corpo quello del corpo forestale dello Stato che ha quasi 200 anni di vita ad ordinamento civile imporre a queste 7.000 donne e uomini di passare sotto l'arma dei carabinieri farà certamente perdere molte competenze, know-how e professionalità e questa è una riflessione che è sicuramente aperta sulla quale non più tardi di una settimana fa anche il nuovo capo della polizia di Stato il prefetto Gabrielli ex capo dipartimento della protezione civile l'ha definita come una scelta infelice c'è il tema dei depuratori di cui in efficienza ha parlato per esempio il comandante regionale del NOI il capitano Motta sul quale certamente c'è la necessità di fare degli approfondimenti e come commissione d'inchiesta io sto attendendo ancora della documentazione che ho chiesto dopo le audizioni in ordine a diversi aspetti ma anche per esempio ce ne cito due i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti in diverse discariche per esempio quella di Pietra Mellina che è stata oggetto di sequestro per esempio anche la destinazione del percolato della discarica ex valle in comune di Terni dove il sindaco di Terni mi pare non più tardi di due mesi fa è stato iscritto nel registro degli indagati lì c'è un'indagine fatta dalla procura di Terni per turbativa d'asta questo percolato che per decenni anziché essere oggetto di una gara pubblica per lo smaltimento è stato nel corso degli anni attraverso dei semplici affidamenti diretti distribuito non si sa dove infatti noi abbiamo chiesto i dati per avere una migliore comprensione ecco questa documentazione insieme all'approfondimento sulla valle dei fuochi di cui ha parlato prima il collega Candiani che io chiederò come lui ha chiesto attraverso un esposto alla commissione parlamentare di inchiesta di fare un focus quindi sulla valle dei fuochi l'ha detto prima Candiani noi oggi abbiamo depositato questo progetto di legge in Senato a prima firma Candiani e io sottoscrittore dove chiediamo sostanzialmente che la valle dei fuochi venga classificata come SIN ovvero sito di interesse nazionale che si affianchi agli altri 40 siti presenti in Italia perché il territorio umbro soprattutto la comunità ha bisogno di garanzie noi chiediamo in questo progetto di legge che l'area venga quanto prima perimetrata oggi 255 ettari sono oggi dal 15 di giugno sono stati posti sotto sequestro dal NOE di Perugia chiediamo uno stanziamento immediato di 10 milioni di euro spalmati sui due anni per addivenire immediatamente la messa in sicurezza dell'area per fare il piano di caratterizzazione per verificare quali sono le necessità di quell'area estesa ripeto 255 ettari sono un territorio molto esteso lì bisogna fare delle analisi approfondite fare un piano di caratterizzazione capire cosa serve per fare la messa in sicurezza e soprattutto per fare la bonifica e anche un'indagine epidemiologica infine per concludere del coinvolgimento della commissione di inchiesta parlamentare io ho chiesto in ufficio di presidenza e ho ottenuto che la commissione stessa faccia ma io dico a questo punto dopo le novità della valle dei fuochi una relazione finale e che poi questa relazione finale dopo che sia venga approvata dalla commissione stessa venga portata così come le altre relazioni prodotte e licenziate dalla commissione di inchiesta parlamentare all'attenzione del Parlamento nazionale quindi non solo il senato ma anche la camera perché l'organo sovrano abbia pienamente a conoscenza di questa problematica in umbia che non è assolutamente secondario dimenticavo di dire un'ultima cosa l'ha accennato prima il collega Candiani il direttore dell'ARPA Ganapini che si è insediato poco meno di un anno e mezzo fa durante l'audizione ha parlato della presenza in umbia di 108 discariche escomunali dismesse nel corso del tempo che hanno bisogno di essere recuperate georeferenziate alcune delle quali si fa fatica a sapere dove sono e soprattutto non si sa che cosa quali materiali siano presenti in queste discariche io ritengo che sotto questo solo attraverso solo sotto questo aspetto ci sia ancora in umbia molto 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 da fare grazie ringrazio il collega Rigoni e adesso invito con estrema sintesi ad uso anche di chi poi deve dare cronaca di quanto stiamo facendo il consigliere regionale capogruppo Emanuele Fiorini Valerio Mancini lasciando poi le conclusioni a Luca Brizziarelli per dare il quadro di sintesi quello che sta emergendo in umbia non è solamente un sistema di carte ma come purtroppo gli stessi scavi e le indagini del NOE stanno facendo vedere sono tonnellate migliaia di tonnellate di rifiuti sotterrati di cui non si conosce l'esistenza e la provenienza le ceneri di pietra fitta mescolate con i rifiuti sono un danno ambientale gravissimo noi abbiamo parlato in Parlamento per mesi della terra dei fuochi ignorando che nel resto d'Italia gestioni malavitose mescolate a gestioni irresponsabili di politica hanno creato delle vere e proprie bombe ambientali nascoste ai cittadini che hanno pagato i servizi i cittadini hanno pagato i servizi e si sono trovati i rifiuti sotterrati nel giardino di casa questo è quello che stiamo scoprendo in Umbria e questo è quello che vogliamo combattere Emanuele Fiorini consigliere regionale capogruppo in consiglio regionale e componente della commissione di indagine per il ciclo dei rifiuti in Umbria grazie grazie a tutti di essere qui presenti proprio l'altro ieri è stata approvata dal consiglio regionale Umbro la nostra mozione in merito all'impiego del georadar e di tutti gli strumenti tecnologici al fine di escludere l'eventuale presenza di rifiuti pericolosi all'interno della discarica alle crede d'Orvieto questa non è stata una vittoria della Nega Nord ma di tutti i cittadini d'Orvietano perché così una volta per tutte avranno le risposte alle mille domande che si sono sempre posti e sapranno soprattutto la verità su quello che è stato conferito all'interno della discarica perciò oggi noi non siamo qui a rappresentare la Nega Nord o a dire che grazie a noi il sistema rifiuti umbri è finito nella commissione bicamerale d'inchiesta sugli ecoreati ma siamo qui per tutti i cittadini umbri che non hanno mai saputo quello che stava succedendo perché il PD ha venuto sempre tutto nascosto probabilmente perché il sistema rifiuti fruttava troppo per far emergere verità che oggi fanno raccravicciare lo vediamo da quello che sta succedendo nella zona della Valle del Nestore dove già nel 2002 uno studio firmato da tre docenti del Dipartimento di Scienze Agroalimentari dell'Università di Perugia aveva posto in evidenza il forte inquinamento ma nessuno si è posto il problema e il PD a questo punto mi domando dove era adesso stanno effettuando dei lavori proprio in quella zona dei lavori per la messa in posa della nuova fognatura riguardo ai comuni di Piegaro e Panicare da questi lavori sono emersi rifiuti speciali residui derivanti dalla combustione di legnita e carbone non ci siamo fidati del sistema vago di gestione dei rifiuti così abbiamo presentato un'interrogazione all'Aggiunta regionale chiedendo che tipo di campionamenti sono stati effettuati se sono stati scontrati i casi di superamento di soglia di contaminazioni e quali sostanze risultano nella composizione del materiale riemerso non bisogna però eliminarsi ad analizzare caso per caso sono mesi ormai che sosteniamo come esiste una gestione opaca del ciclo dei rifiuti in Umbria tanto da poter parlare di un sistema di un'emergenza sanitaria ambientale e quello che sta emergendo non è la prova dalla terra dei fuochi di Invaldo e Ness dall'ingenitore di Terni da poco spento dalla questione del percorato nella discarica alle polveri di Prisciano dagli appalti di Geste Geseno alla gestione della discarica in Greta e Dolvedo c'è una settile linea rossa che collega questioni così evidenti che non sarebbero dovute passare inosservate agli occhi di chi ha governato e governa la regione per questo chiediamo la mappatura delle criticità e la sesura di un piano di bonifica relativa alle situazioni a rischio perché in primis dobbiamo tutelare i cittadini Umbri nel leggere il resoconto della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e sui illeciti ambientali ad esse correlati sono soddisfatto delle dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica di Perugia Luigi De Ficchi che ha dichiarato ho sentito anch'io della compilazione delle schede orso da parte di chi non deve gestirle ho notato che in Umbria ci sono delle prassi che vanno avanti da tanto tempo non è facilissimo evidenziare che sono sbagliate ma bisogna che qualcuno se ne accorga lo dica chiaramente e se possibile metta uno stop per fare questo serve qualcuno che venga da fuori ed abbia il coraggio di dirlo questa è sicuramente una prassi sbagliata e che rileverà per quanto riguarda il dolo dei personaggi che gestiscono e hanno attività in questa situazione io sono soddisfatto rispetto alle dichiarazioni del procuratore di Perugia perché la mia soddisfazione deriva dal fatto che più volte ho sollevato il problema delle schede orso che non venivano compilate dai comuni ma dai soggetti gestori creando una sorta di conflitto di interessi ma è per di ha sempre fatto le orecchie da mercante a questo punto pretendiamo che i 70 comuni su 92 che sono presenti nella nostra regione che non hanno compilato direttamente le schede orso diano spiegazioni logiche ed adeguate a riguardo abbiamo già provveduto a presentare degli esposti e continueremo e infine credo che debbano riprendere immediatamente i lavori della commissione regionale sulla gestione dei fiudi di cui ero membro grazie grazie Emanuele Fiorini per il lavoro che sta facendo in commissione di indagine regionale l'altro giorno il consiglio regionale dell'Umbria ha approvato una mozione voluta dalla Lega Nord è stata approvata perché alla discarica delle carette si è utilizzato il georadar per indagare su quello che sta sotto la nostra attività in consiglio regionale viene anche fatta dal consigliere Valerio Mancini vicepresidente del consiglio regionale Buongiorno grazie a tutti colgo l'occasione anche per ringraziare il nostro responsabile dell'area tematica Luca Prizzarelli che ha dato insieme a tutti i sostenitori cittadini Umbri un contributo perché hanno raccolto nel territorio dell'Umbria le segnalazioni che venivano fatti in passato anche alle autorità ma che purtroppo finivano nel dimenticatoio questo è un fatto più che acclarato tant'è che la nostra regione ha un notevole numero di comitati che sono formati spontaneamente per raccontare le difficoltà e le criticità dei territori questo è è stato poi riportato all'attenzione del senatore Arrigoni che sono stati diciamo puntualizzati questi malesseri porto una testimonianza ho partecipato l'altro giorno in terza commissione che si occupa ovviamente di salute c'era l'ennesimo comitato della Val Nestore beh una delle cose che sono preoccupate di fare i consiglieri di sinistra è recriminare sul fatto che finalmente qualche giornale facendo la sua importante missione istituzionale hanno pubblicato ripetutamente quello che forse in passato non si è voluto rendere noto ai cittadini quindi colgo da questo importante luogo un ringraziamento di fare tutta la stampa Umbra in particolare anche al Corriere dell'Umbria che ha tenuto l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema così importante che va oltre dell'aspetto ovviamente dell'interdittiva antimafia della questione eventualmente penale che i magistrati non so se valuteranno nei tempi e nei modi ma proprio per tutelare un aspetto diciamo non di meno conto che è la salute da consigliere regionale mi concentrerò adesso in questa fase scoprendo che l'Umbria praticamente non ha un angolo che non è stato interessato da questo fenomeno cioè la pienezza e la puntualità in ogni angolo di discariche si è parlato di 108 discariche comunali ma quello che emerge ed è emerso nella sua drammetticità è il fatto che la raccolta differenziata non consentirà in alcun modo né la chiusura in ottemperanza alla cosiddetta economia circolare o alle direttive europee che ne prevedono la gran parte della chiusura ma addirittura siamo all'ampliamento abbiamo avuto la questione delle crete ripeto come ha ricordato il consigliere Fiorini martedì scorso in consiglio regionale l'ennesimo comitato anzi cittadini rappresentanti di quattro comitati sono venuti nel consiglio regionale a dire che loro non vogliono ancora l'ennesimo ampliamento della discarica delle crete ma vogliono una raccolta differenziata cioè molte volte si fa a scarica barile cioè la politica fa caricadere sulla responsabilità dei singoli cittadini il fatto che loro non fanno una raccolta differenziata io ripeto approfitto da questo luogo prestigioso per dire che sono le istituzioni quindi chi ha amministrato comuni ovviamente e province e regioni in questi anni in Umbria non ha saputo apprezzare il valore dei suoi cittadini che non considerano l'Umbria ha una raccolta differenziata divisa su quattro ati 580.000 cittadini non vengono asserviti del servizio di raccolta differenziata ma cosa vengono asserviti delle tasse io l'ho ricordato puntualmente nella campagna elettorale ho fatto anche quella in questo periodo dove ho comunque potuto ascoltare meglio i cittadini piuttosto che all'interno del palazzo parlo di Città di Castello che tra l'altro è il mio comune dove abbiamo ovviamente potuto verificare che lì la Tari costa circa il 35% o più di un comune analogo rispetto a Spoleto per una differenza circa di 2 milioni e 4 la domanda è perché Spoleto costa di meno e perché Città di Castello costa di più lo andremo a chiedere ovviamente al sindaco di Città di Castello in una commissione speciale che chiederemo nel comune lo faranno i consiglieri comunali della Lega ovviamente abbiamo avuto già l'appoggio di tutte le minoranze c'è stato già un tentativo di rifiuto di questa commissione penso che non la spunti perché lo statuto del comune di Città di Castello fatto con saggezza parla chiaro naturalmente in ambito regionale richiederemo che i comuni che hanno avuto il contributo regionale che comunque sono soldi dei cittadini per raggiungere i fantomatici obiettivi di raccolta differenziata e restituiscano i soldi a chi li ha erogati naturalmente la Corte dei Conti dovrà poi procedere secondo noi faremo un'accurata con i collaboratori anche dei nostri senatori un'accurata relazione affinché si evidenzia quanto i dati in modo secondo me ineccepibile asseriscono la questione salute la Val Nestore sempre attraverso un esposto del senatore Candiani e del senatore Arrigoni evidenzia i dati delle malattie oncologiche abbiamo un coefficiente di circa 1400 un coefficiente che esprime la mortalità delle persone in relazione agli abitanti ma in 10 anni è un dato comunque allarmante abbiamo scoperto che la prima in Umbria è Città di Castello che non ha sostanzialmente relazione con la balla di fuochi la domanda che mi pongo ripeto sempre da questo importante luogo e perché Città di Castello ha questo coefficiente così più alto rispetto a una terra che comunque è stata diciamo ormai certificata con questa diciamo discrasia il problema è secondo me che negli anni 80 il nostro comprensorio un'ipotesi che chiaramente richiederà una accurata indagine fu diciamo un luogo prediletto per destinare in soggiorno obbligato importanti esponenti della camorra e delle associazioni mafiose questa è un'ipotesi quindi perché c'è una diffusione così alta di malattie oncologiche in un territorio che dal punto di vista industriale non ha criticità non ha industrie eccetera può essere una questione alimentare valuteremo può essere una questione dell'agricoltura c'è un'agricoltura intensiva molto una monocultura molto radicata storicamente vorremmo vedere questo è il passo che è stato fatto anche ovviamente in regione dove abbiamo chiesto l'audizione di tre sindaci dell'Alto Tevere Città di Castello San Giustino Citerna unitamente gli esperti in materia sanitaria al responsabile dello screening tumorale delle malattie oncologiche dell'Umbria e al registro tumori delle regioni Umbria questo per domandarci anche alcune cose perché se la Val Nestore ha un coefficiente e Città di Castello lo ha molto più alto dobbiamo fare luce quindi in sintesi non è la questione solo delle discariche ma è la questione delle tariffe che incidono sulle imprese e famiglie e la questione poi salute che si aggiunge in maniera ovviamente pesante naturalmente faremo anche luce perché dai nostri cittadini proprio per dare chiederemo ovviamente chiarezza nel luogo istituzionale più idoneo che è il Consiglio Comunale di Città di Castello attraverso ripeto questa commissione di indagine chiederemo chiarezza rispetto ripeto all'ipotesi di condizionamento del processo elettorale tramite la promessa di posti di lavoro denunciata puntualmente in questo luogo dal senatore Candiani quindi attraverso un'interrogazione parlamentare ripeto ipotesi però dobbiamo comunque fare i conti su queste sfumature che non sono per niente belle che riguardano la nostra regione grazie a tutti ringrazio Valerio Mancini e le conclusioni e la sintesi a Luca Brizarelli che si è occupato di tenere i collegamenti tra tutti questi elementi si è stata citata una data quella del 4 febbraio 2016 della prima conferenza stampa che la Lega Nord Umbria ha dedicato a questo argomento in quella sede ci eravamo impegnati a svolgere altre due conferenze stampa il fatto che la seconda che è diretta conseguenza si svolga qui è significativo qual è la notizia cioè un giornalista perché dovrebbe tornare a scrivere i rifiuti in Umbria dopo tutto quello che è successo ebbene la prima notizia è che tutto quanto la Lega aveva anticipato in febbraio dopo mesi di lavoro attento sul territorio ha trovato conferma e ha trovato conferma da un lato e ce l'avete qui e ogni pagina di questo tomo pesa per quello che contiene nelle audizioni che la commissione bicamerale ha svolto in Umbria su richiesta appunto del senatore Arrigoni e trova conferma nei verbali delle audizioni della commissione di inchiesta regionale sui rifiuti tutti i dati che avete oggi ascoltato e ce ne sono molti altri sono confermati in questi verbali dalla procura dal nucleo dal noi dei carabinieri dalla finanza dall'ARPA da soggetti terzi sono dati certi questa è la prima notizia la seconda notizia è che la Lega continua a lavorare da un lato per proporre soluzioni concrete come avete sentito e ne è una prova il disegno di legge che è stato depositato questa mattina così come ne sono una prova le richieste ufficiali che il gruppo regionale ha concretizzato e che sono state illustrate dal capogruppo così come a livello locale lo è la richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta per il comune di città di castello ma l'altra notizia è che noi continuiamo anche a spulciare studiare possiamo dare due anticipazioni in questo senso la raccolta differenziata noi l'anticipiamo senza tema di smentita della regione Umbria dati 2015 è al palo e non aumenta di un decimale rispetto al 2014 contrariamente agli altizionanti proclami della Presidente della Regione relativi anche al 2016 noi dichiariamo qui oggi senza tema di smentita che non solo la raccolta differenziata anno 2015 in Umbria non è aumentata rispetto al 2014 ma in due ambiti su quattro la raccolta differenziata cala perché il calcolo che è stato adottato ha previsto l'equiparazione per alcune tipologie al rifiuto domestico di quello extradomestico questo comporta che la percentuale è calata è un'affermazione che facciamo senza tema di smentita la seconda conseguente dichiarazione che facciamo è che per un problema di qualità oltre che di quantità della raccolta differenziata noi siamo convinti che anche qualora dovessero essere raggiunte le percentuali ipotizzate dalla giunta regionale e dico dalla giunta regionale perché nell'atto della giunta non si riconosce il documento istruttorio degli uffici e la previsione degli uffici anche qualora quei dati dovessero essere raggiunti per un problema di qualità le discariche della nostra regione non hanno una disponibilità sufficiente ad accogliere i rifiuti che nella realtà finiscono in discarica perché purtroppo per i cittadini che sono chiamati a uno sforzo materiale oltre che economico come è stato sottolineato da chi mi ha preceduto e che subiscono a volte le conseguenze sul piano sanitario dei problemi ambientali e di danno ci sono picchi del 70% di rifiuti che finiscono in discarica sembra quasi e è affermato nei verbali che il sistema sia costruito non per produrre un'economicità e un minor afflusso di rifiuti in discarica ma sia pensato per ottimizzare massimizzare il guadagno e la notizia che emerge dai verbali è la continuità la capillarità e la sistematicità di questo di quello che è un vero e proprio sistema e che a parte l'iceberg delle interdittive antimafia vede direttamente coinvolti e responsabili anche l'ambiente e l'ambito tecnico e quello politico la terza conferenza stampa che la lega sicuramente come ha già detto in febbraio dedicherà a questo argomento sarà a conclusione delle indagini che stiamo proseguendo degli approfondimenti che stiamo proseguendo e che si concluderà con la pubblicazione ufficiale di un Dossier che tutti i cittadini potranno scaricare ne esiste già una versione intermedia ma che potrà essere scaricata da tutti e che sarà inviata a Procura della Repubblica e Corte dei Conti grazie Luca questa è la versione sintetica che sviluppiamo e che completeremo con gli altri dati che abbiamo predisposto negli scorsi mesi con tutte le informazioni che abbiamo raccolto il Procuratore della Repubblica nella sua audizione ha dichiarato che serve qualcuno esterno qualcuno che venga da fuori dal sistema e che lo rompa noi lo stiamo facendo questo è il nostro compito il compito che ci intestiamo in Umbria quello di rompere un sistema non avendo avuto mai a che fare con questo sistema e lo denunciamo senza tema dismentita l'opposizione si fa dalla A alla Z senza alcun compromesso concludo con questa dichiarazione il fatto che noi abbiamo ormai un numero così elevato di aziende che si occupano del sistema dei rifiuti è fatto sì che c'è un costo grandissimo che ci sono responsabilità politiche gravi perché questa roba l'ha fatta la politica perché aveva tutta la necessità di dover avere sotto casa l'azienda dei rifiuti che è un modo per sistemare gli amici degli amici e ha prodotto un sistema pesantissimo lo denuncio e lo sottolineo è finita questa fase dobbiamo proprio farla finita perché c'è un costo altissimo per i cittadini un sistema che non funziona un sistema clientelare gravissimo quindi lo denuncio con forza queste non sono le dichiarazioni lasciate da un esponente di parte della Lega queste sono le dichiarazioni rilasciate dal segretario generale della CGL in audizione in regione sul ciclo dei rifiuti quello che noi stiamo facendo è togliere il tappo alla bottiglia perché c'è tanta troppa gente in Umbria che non ha avuto la possibilità di qualcuno che le desse rappresentanza nel far rispettare i propri diritti a partire da questa proposta di legge per continuare con tutte le azioni che stiamo facendo di indagine sul ciclo dei rifiuti non faremo sconto a nessuno